Ciao a tutti amici, facciamo un giro così, se volete vedere Jacksonville vi faccio vedere i posti più belli Siamo nel cuore di Jacksonville, nel cuore storico dove naccono grandi pittori e scultori E molti Questo è lo stadio dei Jaguars, fanno le partite E' stato solo una volta, a Charlotte c'era un stadio bello grosso ma non così grosso Il Jaguar sono stati comprati da un po' di anni da un pakistano straricco che si chiama Khan Con i baffi così, che lui non aveva nessun soldo, poi è diventato straricco del pakistano I programmi di adesso, andare al lavoro a vedere se c'è qualche emergenza Poi se c'è Jonel che ha altre interviste Una cosa che volevo sapere, ci sono in giro un sacco di queste cose qua Adesso sarà sicuramente una cosa dei telefoni, no? Può essere anche... non lo so Sono anche... quella è una stazione televisiva, un'altra Che è First Coast News A Charlotte, nella periferia di intorno C'era un sacco anche tipo due o tre vicini Quindi non ha senso, non è per i cellulari penso, non è per l'antenna Però non mi sono spiegato ancora un motivo Questo sarà di questi network Questa è la zona downtown, una zona un po' ghetto, un po' ghettosa Ci sono palazzi vecchi, c'è la prigione Questa è la zona che la guardiamo, molto bella Ah, c'era quella lì, ha detto Ma, e allora vai in autostrada con la bici Dai, lo sanno tutti Perché in autostrada non si può pagare A volte fanno le domande Pazzesco, c'è come... Questa è la prigione, guarda che bella Non si può manco andare a piedi o chiedere autostrada La prigione è bella perché Ti incarcerano e puoi vedere il mare o il fiume Di solito sono farsi Beh, questa è la prigione, quella prima del processo Poi quando vieni condannato ti portano in campagna Perché la campagna, il profumo della campagna Ti fa bene Anche qua c'è qualche regola su non puoi farlo più alto dell'altro Perché a ogni ipotico a... A Washington non possono farlo A Washington non possono farlo più alto del monumento Sì E invece a Charlotte non possono farlo più alto di quello... Diciamo, quello della... Bank of America Ah, lo sapeva Un contratto dicendo Noi facciamo la Cazugaba Nessuno può farlo più, più alto di noi No, non lo sapevo Gli americani vogliono essere più alti degli altri Infatti Da noi no, ma ci vogliono i soldi per fare i gratacenti Gli strassodi Invece ci conviene al primato di avere il maggior numero di parcheggi Infatti quello è un parcheggio più su monotarco, è un parcheggio Tutti vuoti Se ne erano fatti ci sarà perché no Ce ne sono troppi Vogliono che la gente venga in macchia Magari non ci sono troppi mezzi No, qui ci vuole per forza una macchia No, beh, in America, quello è un ingegnere in America Però a New York no A New York, esatto A New York, esatto A New York dove fare la mia Una delle poche Anche i treni Anche i treni non funzionano Però suonano i rumori ogni volta che arrivano vicino le città Questo per svegliare la gente più forte Perché danno un uomo? Da me a dove stavo in Italia Vimini si suonavano il buco So bella I Norte Mi guardano Navità sceltate Ciò prima In stazione Alla Il problema di oggi è andare ad Array che dobbiamo comprare una tenda nuova, io voglio guardare se c'è qualcosa di campeggio, che anch'io sono abbastanza survival, c'è una cosa che hanno tutti i miei amici ma costa così tanto che non mi sconfiggio, sono delle sedioline che ti siedi ma sono fatte di alluminio che si piegono, 75 dollari, ma come è possibile così tanto? Però belle! Io se lo trovo ancora perché l'ho visto da Decathlon ma pensavo fosse troppo da portare in giro, lo scampo io è quello con tre bastoncini e il triangolo sopra di tela, no? Allora quello a casa l'ho, se lo trovo te lo regalo, perché a me non piace, è scopodo, però ogni tanto quando faccio campeggio così mi piacerebbe stermi fuori un attimino, aspettare, l'ho da qualche balla, sicuramente non so dove vai, quindi non lo posso mai calare, adesso vediamo se c'è l'olipo, anche se ti costerà i più 100.000 dollari, però, quello che costa tanto è comodo, la Decathlon non costa poco, però, cioè ti siti proprio e ti deve rimanere un po' in equilibrio, ma tutti c'è la mente, ma, sì, però, adesso quella che è una tenda che ho visto io, mi sembra si chiama tipo Passage 2, come dire, di che marca è? Della Ray, mi sapete, ah, della Ray, sì, come è buona, dici? Eh, la Ray è una roba molto buona, molto costosa, ma è buona, però costa normalmente circa 50, e a Charlotte era scontata 80, 80, 85, spero sia lo stesso sconto. E dovresti prenderti anche su uno scaldamani, una bella coperta, perché qui fa molto freddo in questi giorni, no? Eh, sì, non potete sapere in tenda in Florida cosa si sprova. È umido, è vago, è come fare, cioè, è come fare la sauna, praticamente, no? Però nella mia tenda non si respirava neanche, quindi l'ultima notte dovevo dormire e ho iniziato a aprire per respirare. Più quando l'ho lasciato aperto e le zanzari mi hanno sveglio, mi hanno sveglio, quindi un po' di dormire. Beh, in una volta io sono andato in tenda d'estate e però spattaccavo con l'iPad dentro, allora le zanzari e soprattutto quelle ultra piccolissimi microscobili riuscivano ad entrare attraverso la tenda e mi hanno mostro di brutto, sono, si chiamano, si chiamano, non si amano, sono tipo dei moscerini piccolissimi, però cattivissimi, passano dentro, ma noi sorvavano proprio, non abbiamo dormito, poi si vede a casa a dormire. Stiamo facendo un salto a Mary Fisher a vedere se c'è qualche emergenza, guarda che non ho il mio computer, e se vedere se c'è quella signora per altre intervie. Probabilmente no, ma ora possiamo andare a dormire, mi tolgo. C'è qualche fast food che mi consigli da provare ancora? Allora, tiquana fletta, a me piace proprio i messicani, poi c'è... Ma posso mangiare anche poco piccante? Quello è piccante. Cioè esiste l'alternativa oppure... No, c'è l'alternativa. Puoi avere, di normale, io prendo un coso che ci sono solo dei jalapeno sopra, se li mangi ci sono piccanti, se no... Piena dei jalapeno sopra? Però se li puoi togliere non provo. Poi ci sono le salsine che puoi mettere, tutte piccanti, ma anche medie, e questo è uno. E quello è il problema, quando dici voglio una cosa non piccante, la gente ti dà una cosa piccante media per loro, no? Il problema è che si... Ma quello, diciamo, è non piccante e però ci mettono i jalapeno sopra che li togli facilmente e quindi il sotto non è piccante. Taco Bell? Poi Taco Bell è una catena troppo scarsa, allora io vado sempre a Tiquana Flat, che poi alla fine a Tiquana spendi tipo 10 dollari, anche qui magari se prendi... Di meno un mega. Ci sono cose che costano anche 5 dollari, però per 10 dollari vado dall'alto. Poi se ti piace il pull pork, io lo mangio sempre, c'è la variante di carne, c'è Mojo, qui, molto bellino, poi fast food, poi c'è uno che fa la pizza tipo italiana, se ti piace la pizza. Poi, però adesso è presto. Ho sempre paura per la pizza italiana. Perché? Eh, perché non sarà come quella italiana. Beh, questa qui è l'unica. A volte è mangiabile. Quella che abbiamo preso a... come si chiama? Con i miei amici a... quel centro commerciale che dicevamo parlavo ieri. Una WDW. Ah, Walmart. La radio ha preso una cosa che fanno loro al momento e non era male. Sì, la GC. Però quella... più quella... che è lì e... c'ha i forni italiani, c'hanno persone italiane che lavorano, lo fanno come quella italiana. Che a Marta non piace perché è tutta bruciata. e il bruciato è il più buono, come direbbero gli addetti. Fatta sta che, non lo so, quello... quello poi... lo so, poi al centro commerciale dove c'è Rai ci sono un sacco di altre opzioni. Panera bread è il mio... bellissimo. Allora, panera bread... un po' di volte ma non mi sono mai fermato. E non è male perché io prendo un menù che ha la pasta, ha l'insalata, ha il pane... buonissimo. E poi c'è... un po' di volte... che è il mio... ebbene, madonna, non c'è neanche un posticino sminchioato... un po' di volte... in un momento... eh... eh... c'è... eh... c'è... eh...